Ciao a tutti! Oggi apriamo insieme il mio mini uovo kinder di quest'anno. Apriamolo insieme. Davvero piccolo eh! Buono al cioccolato, come sempre! Eccolo! 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 Ecco fatto! Molto bella la sorpresa! Guardate come... Divertentissimo! Però come... Ah, così! Vedete che ho fatto! Eccolo! Vabbè, comunque... Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale qui sotto. E ciao! Ciao! Adesso mi mangio anche la cioccolata! Eccolo! 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 Eccolo!